E' arrivata questa convocazione, a noi fa piacere, mi dispiace perdere una partita, però è una convocazione importante, prestigiosa, alla quale non possiamo rinunciare. Ovvio di che dispiace perdere una partita. E' un'esperienza sicuramente importante, che sia utile, è utile, però è un momento importante della stagione. Magari se ne può fare a meno, però dai, siamo giovani. No, no, perdiamo la partita con la Spal, ci dispiace, perché comunque noi ci teniamo, abbiamo fatto comunque un gran campionato finora con la Pro Vercelli e vorremmo esserci sempre. Purtroppo e fortunatamente c'è questa convocazione.